E' arrivato il momento di svappare, svappo me! In promozione, invece, il Grotta, dopo aver sistemato il reparto over, ha riconfermato gli under del 99, Gioele Lepore e Antonio Pascuccio, entrambi attaccanti. Sul fronte attaccanti, il più corteggiato è sicuramente Pino Guardabascio, ormai in uscita dall'Accadia. Sul bomber, che lo scorso campionato ha trascinato a suon di gol, Ben 21 e il club foggiano, non sembra esserci solo il Sant'Omaso. Sull'attaccante ormai ex-Accadia ci sarebbe anche un forte interessamento degli Ioni, la matricola dalle grandi ambizioni.